Attenzione ragazzi, c'è la terza donna da affrontare! Dobbiamo annientare Crying Beauty! Questa è la terza bella che stiamo affrontando! Oh ragazzi, ne abbiamo fatta di strada in Metal Gear Solid 4! Abbiamo eliminato tre bestie! Anche la terza è stata eliminata! Le belle e le bestie presto non ci saranno più!